Quando la mattina del 25 dicembre 2019 Kevin Bacon, un giovane ragazzo di 25 anni, non si presenta a casa dei suoi genitori per la colazione di Natale, loro sospettano subito che sia successo qualcosa di strano. Vengono alertate le autorità che emanano un avviso di scomparsa, ma quello che verrà a galla sarà molto peggio di quanto chiunque potesse immaginare. Amici miei, buonasera, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose, siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E oggi preparatevi perché la storia che voglio raccontarvi fa davvero rabrividire. Avevo fatto un reel qualche mese fa su Instagram, ma Instagram aveva deciso di oscurarlo perché ho usato parole come cannibale e greener, che a quanto pare non si possono usare. Assurdo. Comunque considerate queste parole, penso abbiate già capito più o meno di che cosa andremo a parlare. Prima però vi ricordo velocemente che su Pampling trovate le magliette che indosso nei video e tantissime altre cose. Ogni settimana c'è qualche promozione figa, quindi nella descrizione vi metto l'offerta della settimana corrente e vi ricordo, se prendete qualcosa, di inserire il codice ANDREW così da avere anche delle calze a vostra scelta totalmente in omaggio. Detto questo, cominciamo subito. Il caso di cui voglio parlarvi oggi è avvenuto in Michigan, più di preciso nella piccola e tranquilla cittadina di Swartz Creek. Un comune poco fuori da Flint e a circa un'ora e mezzo dalla più grande e conosciuta città di Detroit. In questa piccola e remota cittadina di poco più di 5.000 abitanti vive il protagonista della nostra storia, un giovane ragazzo di nome Kevin Bacon. E no, non mi riferisco al famoso attore, anche se lui poi in futuro ha espresso sui social la sua tristezza riguardo al caso e insomma ha speso qualche parola per essere vicino alla famiglia della vittima. Il nostro Kevin comunque nasce il 28 novembre 1994 e cresce in una famiglia molto unita, composta da sua madre Pamela Van Horn, suo padre Carl Bacon e sua sorella Jennifer che è più grande di lui di un anno. Non sappiamo molto altro riguardo la sua infanzia e la sua crescita, ma sappiamo che si diploma alla Swartz Creek High School nel 2013 e si iscrive successivamente alla Sharps Hair Academy di Grand Blanc Township. Sarebbe un corso di formazione per diventare parrucchieri. Nel 2019 quindi inizia proprio a lavorare come parrucchiere presso l'Unique U Salon e Spa di Swartz Creek. Tutto perfetto insomma, ma in quel periodo della sua vita Kevin decide di voler continuare a studiare perché il suo vero sogno nel cassetto era quello di diventare psicologo, laurearsi in psicologia applicata così da poter aiutare le persone in difficoltà. Le persone intorno a lui lo definiscono come una persona molto divertente, sempre pronta a dare una mano e soprattutto molto empatica e sensibile, quindi il lavoro dello psicologo sarebbe stato perfetto per lui. Quando qualcuno voleva un consiglio chiedeva sempre a Kevin perché la sua capacità di ascoltare, ma soprattutto di dare consigli ottimi, era senza uguali. Amici, colleghi e parenti lo descrivono come una persona intelligente e in grado di far sentire meglio gli altri, le persone che lo circondavano, sia aumentando la loro autostima, sia offrendo loro sostegno e gentilezza. La sua sensibilità tuttavia era un'arma a doppio taglio, che lo portava a volte ad avere pensieri molto negativi. Infatti nonostante Kevin fosse un'ottima spalla su cui piangere, e una persona divertente, sempre pronta a tirare su il morale agli altri, in realtà nascondeva molti demoni. Il ragazzo, fin da adolescente, aveva sviluppato una forte ansia sociale, dovuta al suo aspetto fisico sostanzialmente. Kevin non si era mai piaciuto nel suo corpo e non aveva mai amato il suo aspetto esteriore. Per anni ha avuto una lotta interiore che riguardava l'autostima e il suo rapporto con gli altri, specialmente nelle relazioni amorose. Tutto questo lo ha portato a praticare autolesionismo, attraversare vari disturbi alimentari e assumere comportamenti sessuali che possiamo definire come pericolosi. Per via di queste problematiche che non sono mai realmente andate via, Kevin nel 2018 ha provato a togliersi la vita e nel 2019, per via del suo tentativo disperato, è stato ricoverato in psichiatria. Nonostante questo, Kevin non ha abbandonato il suo sogno, ovvero andarsene dal piccolo paesino in cui viveva per trasferirsi nella grande metropoli di Chicago e aprire uno studio tutto suo in cui svolgere la professione di psicologo. Un sogno che però, purtroppo, non sarebbe mai riuscito a realizzare. Arriviamo così alla vigilia di Natale del 2019, il giorno in cui inizia a tutti gli effetti questo tragico caso. Quel giorno Kevin lavora fino alle 15 nel salone di bellezza. Gli appuntamenti sono tantissimi per via delle feste e il ragazzo, essendo un gran lavoratore, fa di tutto per accontentare tutte le clienti fino all'ultimo appuntamento. Verso le 16 circa, poi, una volta finito di lavorare, si reca a casa dei suoi genitori e decide di fare delle belle acconciature anche a sua madre e a sua sorella, che avevano la fortuna di avere un ottimo parrucchiere in famiglia. In quel periodo, Kevin si era da poco trasferito in un appartamento poco distante dalla casa dei suoi, insieme ad una sua amica di nome Michelle Myers e ad altri coinquilini. Quell'anno, quindi, aveva deciso di trascorrere con lei e gli altri coinquilini la vigilia di Natale. Non sono riuscito a capire bene il motivo per cui Kevin non volesse trascorrere la cena della vigilia con la famiglia, ma da alcune fonti ho letto che il ragazzo non era visto di buon occhio da alcuni parenti e la sua ansia sociale lo aveva spinto ad evitare direttamente quella serata in famiglia. Quindi il ragazzo, dopo aver pettinato sua madre e sua sorella, esce di casa per tornare nel suo appartamento in cui la sua amica Michelle lo stava aspettando. Il breve tragitto va nel migliore dei modi e il ragazzo arriva a casa sano e salvo. Una volta lì, i due decidono di fare un piccolo aperitivo tra amici e di guardare un po' di tv. Una serata proprio chill, totalmente l'opposto di quello che sarebbe stato a casa dei suoi genitori. Comunque però, passato qualche minuto in questo modo, insieme alla sua coinquilina, il ragazzo si dirige in camera sua e si collega sull'app di incontri, chiamata Grinder. Per chi non lo sapesse, Grinder è un'applicazione molto conosciuta dedicata ai membri della comunità LGBTQ. In sostanza, è il modo migliore e più semplice per conoscere persone in cerca di amicizie, incontri occasionali, appuntamenti e non solo. L'app permette di creare un profilo personale e utilizzare la posizione per far vedere a chi la utilizza tutti i profili delle persone più vicine in una sorta di griglia. La griglia permette di sfogliare gli altri profili in ordine dal più vicino al più lontano. Dovete sapere che gli utenti sono quasi esclusivamente maschi omosessuali in cerca di divertimento. Posso dire così. E tramite l'app possono vedere i profili delle persone vicine e magari trovarne qualcuna che gli interessa. Ecco, Kevin adora Grinder perché rappresenta di per sé un modo per evadere dalla realtà e conoscere qualcuno di nuovo online, come con Tinder per intenderci. Con la differenza però che su quest'app il ragazzo può esprimere la sua sessualità in maniera totalmente libera senza temere giudizi o discriminazioni. Inoltre può incontrarsi con persone che condividono i suoi stessi gusti e le sue stesse passioni. Cosa che in un piccolo paesino come quello in cui viveva lui non è affatto scontata. Bene, quella sera Kevin comincia a messaggiare con un altro utente che secondo l'app viveva proprio lì vicino al suo appartamento e i due, dopo essersi scambiati qualche messaggio, si danno appuntamento. Il ragazzo così si prepara e comunica alla sua amica Michelle e agli altri coinquilini che avrebbe passato il resto della serata a casa di un ragazzo e quindi probabilmente sarebbe tornato a tarda notte. Kevin quella sera esce di casa verso le 17.30, sale sulla sua macchina e si dirige verso la posizione del ragazzo con cui aveva un appuntamento. Più precisamente, verso casa sua. Michelle intanto gli scrive di tenere il telefono acceso, di chiamarla per qualsiasi evenienza, perché nonostante che sia un'app verificata, rimane comunque un'app di incontri in cui le persone sostanzialmente non si conoscono. E visto le storie che ogni tanto si sentono, la prudenza non è mai troppa, mi raccomando. Kevin quindi rassicura l'amica dicendole che l'avrebbe tenuta aggiornata. Peccato però che questi aggiornamenti non sarebbero mai arrivati. Già alle 19 il telefono di Kevin risultava spento, il che appare subito strano all'amica Michelle perché Kevin era un ragazzo molto timido e prudente e non avrebbe mai tenuto il cellulare spento durante un appuntamento con uno sconosciuto. La ragazza non sapeva che purtroppo quei messaggi di raccomandazione che si erano scambiati sarebbero stati gli ultimi. Il giorno dopo, la mattina del 25 dicembre, quindi la mattina di Natale, Michelle si alza e trova la camera da letto di Kevin vuota. Il suo coinquilino non era rientrato. La ragazza quindi avverte subito una brutta sensazione. Da un lato spera con tutto il cuore che l'appuntamento sia andato bene e che l'amico abbia deciso di passare la notte dal ragazzo con cui aveva appuntamento, ma dall'altro lato non può fare a meno di pensare che sia successo qualcosa di strano. I sospetti ovviamente aumentano quando la mamma di Kevin telefona a Michelle per chiederle se si trovasse a casa con lei perché il figlio non le rispondeva dalla sera prima. È a quel punto che Michelle si allarmò ufficialmente. Kevin non era nemmeno tornato a casa per Natale e questo era molto strano perché nonostante tutti i suoi problemi il ragazzo aveva davvero un ottimo rapporto almeno con i genitori e in 25 anni non era mai capitato che non si presentasse al pranzo di Natale. Mai. Quel Natale per i familiari e gli amici di Kevin trascorre molto lento e dominato dall'ansia. Tutti provano a contattare il ragazzo ma senza ottenere risultati e una volta calato il sole ancora non hanno sue notizie di Kevin non c'era alcuna traccia. L'avviso di scomparsa tuttavia viene emanato solo il giorno seguente ovvero il 26 dicembre 2019. I genitori quel giorno si recano alla centrale di polizia per depositare la denuncia di scomparsa e spiegano quindi ai poliziotti quanto è successo due giorni prima aiutati anche dalla testimonianza di Michelle. Spiegano che Kevin era uscito intorno alle 17.30 del 24 dicembre per incontrare un ragazzo conosciuto sull'app di incontri Griller e non aveva mai fatto ritorno a casa. In più il suo cellulare risultava spento da quel momento. Immediatamente le forze dell'ordine si mettono all'opera e rilasciano l'avviso di scomparsa cominciando anche con le ricerche. Ovviamente anche familiari e amici aiutano a cercare Kevin ma quel giorno per sfortuna si conclude con nulla di fatto solo una crescente paura. Il 27 dicembre poi viene fatta una scoperta piuttosto preoccupante. Viene trovata l'auto di Kevin accanto alla Miller Road una statale che dista solo circa 3 km da Swords Creek. All'interno dell'auto vengono rinvenuti tutti gli oggetti personali di Kevin tra cui il suo telefono i suoi portafogli i documenti e i contanti che aveva con sé. Ma non è tutto perché dentro al veicolo vengono trovati anche i suoi vestiti quelli che indossava il giorno della scomparsa. Michelle afferma che Kevin non si era portato dietro nessun ricambio e quindi ovunque si trovasse non aveva assolutamente nulla con sé nemmeno i suoi vestiti. Cosa cavolo gli era successo? L'automobile viene immediatamente messa sotto sequestro e tutti i suoi oggetti personali vengono consegnati alle autorità. Il cellulare viene acceso e alcuni esperti riescono a sbloccarlo per recuperare gli ultimi messaggi inviati e risalire così alla persona con la quale Kevin aveva un appuntamento. Così facendo viene fuori che l'ultima persona con la quale il ragazzo si era sentito era un utente di Grindr. Un utente che si chiamava Onikos Kai Lucas. Ovviamente non ci è voluto molto prima che gli agenti capissero che si trattava di uno pseudonimo un nickname falso e che la vera identità di quella persona era Mark Latunski. Cercando nel loro database si accorgono anche che Kevin Bacon non era stato il primo ragazzo ad essere stato invitato a casa di Mark tramite l'app. E arrivati a questo punto della storia dobbiamo farci la stessa domanda che si sono fatti gli agenti e gli investigatori. Ovvero chi è Mark Latunski? A differenza degli investigatori al momento delle indagini però noi abbiamo la risposta ed è anche piuttosto dettagliata. Ciao Dio. Anche gli agenti sapevano chi fosse ma non in maniera così approfondita. Quindi Mark Latunski è un uomo che all'epoca dei fatti aveva 54 anni e viveva nella sua casa a Bennington Township una città che dista circa 20 minuti da Swords Creek. Mark è nato nel 1969 purtroppo non sono riuscito a trovare la data esatta ed è cresciuto nella fattoria della sua famiglia a Morris a circa 40 chilometri dalla città natale di Kevin Bacon ovvero Swords Creek. Mark è figlio di un allevatore e infatti da bambino anche lui allevava bovini da carne e aiutava suo padre nella fattoria. Durante l'adolescenza però si è reso conto che quella non era la sua vocazione. Il ragazzo infatti si rivela essere un ottimo studente era davvero bravo a studiare specialmente alcune materie ma in generale andava proprio benissimo a scuola. Si è quindi diplomato alla Morris High School nel 1987. Il suo sogno nel cassetto era diventare un chimico infatti la scienza era sempre stata quella che lo appassionava di più e non a caso era sempre stato il migliore della classe in materie come matematica, fisica, chimica. A soli 19 anni ha deciso di scappare dalla sua piccola città natale per frequentare la Central Michigan University a Mount Pleasant dove si è poi laureato in chimica nel 1991. Da lì Latunski ha frequentato la Iowa State University e si è laureato con un master in chimica e fisica organica nel 1995. Dopo il master Mark non è andato tanto lontano anzi si è trasferito in una grande casa negli ampi campi agricoli della contea di Shiwassi dove ha trovato un lavoro come ricercatore chimico presso la Flint Inc. che sarebbe un produttore di inchiostri da stampa commerciali. Ecco, quel periodo è forse stato uno dei più positivi per lui perché aveva trovato un bel lavoro era riuscito a farsi comunque un sacco di amici e in generale era giovane e un bellissimo ragazzo di successo anche. Tuttavia dal punto di vista sentimentale aveva non poche difficoltà infatti non aveva mai avuto una vera e propria relazione con una ragazza. Pensate che è rimasto single praticamente fino ai 30 anni quando alcuni amici stretti gli hanno praticamente fissato un appuntamento con la donna che sarebbe diventata sua moglie. La donna si chiama Emily e non sono riuscito a trovare il suo cognome da nubile quindi la chiamerò solo Emily. Quando si è conosciuta con Mark aveva poco meno di 30 anni e tra i due è nata subito un'intesa fortissima tant'è che dopo una frequentazione di circa un anno i due hanno acquistato una grande casa a Tyrell Road a Bennington Township appena fuori Morris. I due poi si sono sposati nel 2001 e hanno deciso di mettere su famiglia. Nel 2003 è nato il primo dei loro quattro figli un maschio al quale seguiranno tre femmine una nel 2004 una nel 2007 e l'ultima nel 2010. La famiglia faceva la vita da fattoria e allevava capre, galline, anatre e conigli su un grande terreno di due ettari. Emily adorava andare a cavallo e ha trasmesso questa passione anche al marito e ai figli. La famiglia poi partiva in viaggio ogni volta che ne aveva la possibilità e la loro meta preferita era senza dubbio Disney World. Sto descrivendo praticamente la famiglia del mulino bianco vi giuro è scioccante quello che succederà perché fa capire che anche in realtà come queste si può nascondere qualcosa di davvero spaventoso. Comunque Mark si era rivelato fin da subito un padre molto impegnato con il lavoro ma anche estremamente amorevole e premuroso. Nonostante la vita frenetica la famiglia Latunski era una famiglia felice. Questo almeno fino alla nascita dell'ultima figlia nel 2010. Perché da quel momento in poi le cose hanno preso una svolta diversa. A partire dalla nascita dell'ultima figlia qualcosa ha segnato l'inizio del declino di Mark. Infatti un paio di settimane dopo la nascita Emily ha cominciato a notare che Mark aveva alcuni comportamenti molto strani e passava sempre più tempo fuori casa che a detta sua era sempre per via di viaggi di lavoro molto importanti. Famosi viaggi di lavoro? Purtroppo però sono presto venuti a galla parecchie cose ambigue che hanno inevitabilmente cambiato le dinamiche familiari per sempre. Prova a spiegarmi Mark da un po' di tempo aveva cominciato a messaggiare con altri uomini online e poco dopo aver cominciato a farlo ha confessato a sua moglie di averla tradita con uno di questi uomini. Nel giro di poco tempo quindi Mark si è praticamente chiuso in se stesso ha cominciato a passare sempre meno tempo insieme alla famiglia e sempre più tempo fuori di casa molto spesso non presentandosi a casa per giorni interi. C'era un lato di Mark infatti di cui ancora non vi ho parlato e che ho tenuto nascosto apposta fino a questo momento purtroppo Mark fin dall'adolescenza aveva sempre lottato contro dei disturbi mentali a 16 anni gli era stata diagnosticata una forte depressione maggiore e solo due anni dopo anche una schizofrenia paranoide oltre a ciò l'uomo soffriva anche del disturbo d'ansia generalizzata attacchi di panico e del disturbo borderline della personalità un quadretto diciamo bello completo tuttavia con l'aiuto di una buona terapia e con l'appoggio dei professionisti era sempre riuscito a tenere sotto controllo i suoi disturbi ciò che lo ha salvato per tutti quegli anni è stato proprio il fatto di concentrarsi al massimo sugli studi e di prosperare in ambito sociale e lavorativo questo unito all'aiuto dei professionisti e ai farmaci è stato quello che per anni ha diciamo tenuto a bada i suoi sintomi purtroppo però i disturbi mentali maggiori e in questo caso mi riferisco proprio alla schizofrenia e alla depressione possono avere sintomi lievi anche per anni per poi esplodere da un momento all'altro basta poco basta un cambiamento nella vita dell'individuo oppure un profondo trauma nel caso di Mark però non si è trattato né di uno né dell'altro dopo la nascita della sua quarta figlia infatti l'uomo aveva deciso di non volersi più nascondere e ha confessato di provare e di aver sempre provato una forte attrazione per gli uomini e di conseguenza ha confessato ad Emily di averla tradita Emily ovviamente ci è rimasta malissimo e ha spronato Mark a cominciare una terapia di coppia con uno psichiatra l'obiettivo della donna non era assolutamente quello di riprimere la sessualità di Mark ma più che altro cercare di far luce su questo cambiamento così improvviso della sua personalità negli ultimi tempi infatti la salute mentale di Mark aveva cominciato a peggiorare e gli episodi paranoici e maniacali erano diventati sempre più frequenti Mark parlava anche spesso a Emily di quanto la sua famiglia stesse cercando di nascondergli del denaro che gli era destinato in eredità e successivamente l'avrebbe anche accusata di essere a conoscenza di tutto ciò e di avergli nascosto del denaro tutto un delirio causato dai suoi disturbi mentali ovviamente all'inizio del 2012 la situazione era ormai peggiorata a dismisura e così Mark ha dovuto trascorrere un periodo in un centro che non ho capito benissimo che tipo di centro fosse tuttavia è stato cacciato dalla struttura perché si rifiutava di prendere i farmaci non so probabilmente non è andata esattamente così ma gli articoli che ho trovato online erano un po' vaghi quindi ipotizzo che semplicemente lui non volesse prendere i farmaci e quindi dopo vari tentativi si è arrivati alla conclusione che l'unica soluzione era quella di farlo tornare a casa e proseguire con le cure lì supposizione mia comunque anche dopo essere tornato a casa Mark continuava a rifiutarsi di prendere gli psicofarmaci più precisamente psicofarmaci contro le allucinazioni allucinazioni che però negli ultimi tempi stavano avendo un impatto piuttosto marcato sulla sua vita da quel momento infatti Mark avrebbe avuto sempre più episodi maniacali la relazione poi già sotto stress per l'infedeltà e le malattie mentali è crollata definitivamente quando Mark ha denunciato Emily per abbandono di minore la donna tuttavia ha sempre sostenuto che le accuse erano inventate poi a maggio dello stesso anno quindi sempre nel 2012 Emily ha chiesto ufficialmente il divorzio da Mark e si è trasferita altrove insieme ai bambini ovviamente da quel momento è iniziata una battaglia legale per la custodia dei figli che si è conclusa con lo sgomento di Emily quando il giudice ha concesso a Mark le visite ai bambini senza supervisione nonostante dell'aggravarsi dei suoi disturbi mentali questa decisione come era prevedibile avrebbe portato a qualche problemino durante una visita del 2013 infatti Mark non è riuscito a riportare i bambini a Emily all'orario prestabilito così la donna spaventata giustamente ha chiamato la polizia praticamente Mark quel giorno aveva portato i bambini in un parco acquatico in un'altra città e si era rifiutato di restituirli alla mamma la polizia quindi si è ritrovata costretta ad arrestarlo con l'accusa di rapimento di minori ma il caso è stato archiviato a seguito di una valutazione psichiatrica ordinata dal tribunale che ha ritenuto Mark mentalmente incapace di sostenere un processo e questo è successo nel 2014 l'uomo a seguito di questo fatto non ha potuto vedere i suoi figli per quasi 4 anni intanto nel 2015 Mark ha conosciuto un uomo sull'app di incontri un uomo di nome Jamie Arnold i due si sono conosciuti sono andati d'accordo e dopo una frequentazione di circa un anno si sono sposati nel 2016 il matrimonio però è durato solo 3 anni e le cause del divorzio saranno proprio i disturbi mentali di Mark che si sono aggravati ogni anno sempre di più Jamie ha sempre sostenuto al 100% suo marito in qualsiasi decisione ma non riusciva più ad assecondare le sue manie di persecuzione infatti l'uomo stava progressivamente dicendo cose sempre più strane pensava che la gente lo seguisse e volesse fargli del male ed era convinto che i suoi vicini stessero inquinando l'acqua di casa sua per avvelenarlo e ucciderlo Jamie ha provato in vano a fargli prendere le medicine e lo ha continuamente spronato a continuare la terapia che in qualche modo lo aveva aiutato in passato ma quando si è arrivati al punto di non ritorno l'uomo ha deciso di chiedere il divorzio nello stesso anno quindi nel 2019 dopo aver lavorato come chimico e direttore di laboratorio per 12 anni l'azienda American Chemical Technologies decide di licenziarlo e quel periodo rappresenterà per lui una vera e propria sconfitta sotto tutti i punti di vista perché ora oltre a non poter più vedere i suoi figli non ha nemmeno più un lavoro e non ha nessun reddito su cui appoggiarsi per sostenere le spese di mantenimento questo è l'inizio del declino totale di Mark Latunski quindi ora che vi ho presentato l'uomo con cui Kevin aveva appuntamento possiamo tornare al presente ovvero alla storia alla fine del 2019 eravamo rimasti al momento in cui gli agenti cercano sul database il nome di Mark Latunski e scoprono alcune cose sconcertanti viene fuori infatti che solo due mesi prima l'uomo aveva già invitato altri uomini a casa sua per consumare dei rapporti sessuali ma le cose non erano andate esattamente come previsto il 10 ottobre 2019 quindi due mesi e mezzo prima della sparizione di Kevin un uomo di 48 anni chiamato James Carson aveva effettuato una chiamata 911 nel cuore della notte chiedendo aiuto disperatamente diceva che un uomo lo aveva incatenato nel suo seminterrato contro la sua volontà e quell'uomo era proprio Mark ma James era riuscito a scappare ed era fuggito fuori in strada praticamente mezzo nudo chiamando i soccorsi nella chiamata James dice che in quel momento stava camminando per strada ma non sapeva l'esatta posizione in cui si trovava era molto agitato aveva il fiatone e ha affermato di essere stato drogato e successivamente di essersi risvegliato e incatenato al muro di quel seminterrato l'operatrice del 911 allora sentendo queste parole chiede a James chi fosse quest'uomo ma il ragazzo risponde di non volerci avere più niente a che fare e che vuole soltanto tornare al sicuro a casa sua e dimenticare tutta questa storia per via di questo non verrà mai sporta denuncia eppure qualche indagine potevano farla il 25 novembre 2019 poi succede di nuovo questa volta un uomo di 29 anni di cui non siamo riusciti a trovare il nome chiama il 911 è accaduto in pieno pomeriggio e spaventato alla chiamata dice di essere appena scappato dalla casa di un uomo che l'aveva incatenato al muro del suo seminterrato l'operatore gli chiede dove si trovasse in quel momento gli dice di recarsi all'abitazione più vicina per aspettare l'arrivo degli agenti e così fa l'uomo si dirige a casa di un vicino di Mark e lo supplica di aspettare con lui l'arrivo dei soccorsi perché qualcuno di pericoloso lo stava inseguendo anche questa volta però non verrà sporta nessuna denuncia e anche questa volta potevano fare delle indagini tornando alle vicende conoscendo queste due segnalazioni la polizia mette Mark Latunski in cima alla lista dei sospettati per la sparizione di Kevin Bacon e il 27 dicembre quindi siamo a tre giorni dalla scomparsa di Kevin due agenti di polizia si recono a casa sua con un mandato per rinterrogarlo è proprio Mark che va ad aprire la porta con un sorriso stampato sul volto non sembra per nulla sorpreso di vedere la polizia anzi li invita subito ad entrare gli agenti allora gli chiedono se si chiamasse Mark Latunski e lui risponde che il suo vero nome in realtà era Thomas Edgar Hill e che ha cambiato nome per questione di protezione personale per proteggersi da chi e da cosa non lo sappiamo comunque gli agenti entrano nell'abitazione e fanno un rapido giro perlustrando ogni stanza ma non trovano nulla di insolito i poliziotti però sanno benissimo che c'è una parte della casa che dovevano per forza andare a controllare ovvero il semi interrato quello che veniva definito come uno scenario dell'orrore stando alle chiamate effettuate al 911 nei mesi precedenti Mark tuttavia non cerca nemmeno per un minuto di nascondere il semi interrato anzi è proprio lui a guidare gli agenti al piano di sotto ed ha ragazzi un comportamento davvero inquietante perché purtroppo come era prevedibile lì sotto trovano il corpo di Kevin ma la visione della scena è molto peggio di quanto si aspettavano Kevin era completamente nudo e appeso a testa in giù dalle caviglie era ricoperto di sangue e aveva un taglio netto alla gola e diverse ferite da taglio alla schiena nel semi interrato gli agenti trovano vari oggetti che spesso vengono utilizzati nei rapporti BDSM tra cui manette catene collari in pelle fruste e via dicendo come se lo scenario non fosse già abbastanza raccapricciante purtroppo gli agenti scopriranno che i disturbi di Mark l'avevano portato a compiere altre atrocità al corpo del povero Kevin al ragazzo infatti erano stati recisi i testicoli e Mark confesserà poi di averglieli mutilati per friggerli e mangiarli dio mio in quel momento confessa anche che la sua intenzione era quella di usare il suo sangue e le sue ossa come fertilizzante per le sue piante e di utilizzare i suoi muscoli per produrre della carne secca infatti il giorno prima aveva perfino acquistato un essiccatore gli stessi agenti sono completamente sotto shock viene immediatamente chiamata la scientifica insieme al medico legale e Mark Latunski viene arrestato con l'accusa di omicidio quando la polizia si presenta a casa di Bacon la famiglia è completamente scioccata amici e parenti si riuniscono per condividere il dolore della perdita del povero ragazzo ma soprattutto viene immediatamente chiesta giustizia sono state mosse anche molte accuse nei confronti della polizia per non aver mai indagato a fondo su chi fosse Mark Latunski nonostante le numerose segnalazioni a suo carico e nonostante i suoi disturbi mentali secondo me e non lo penso solo io ma anche l'opinione pubblica gli agenti non si sono mai allarmati sulla faccenda proprio perché pensavano si trattasse di semplici giochi tra omosessuali è terribile dirlo ma purtroppo è stato così hanno abbandonato le vittime perché pensavano che fosse solo qualche gioco malato tra omosessuali ed è allucinante perché dalle chiamate del 911 si può sentire quanto fossero impaurite le vittime anzi terrorizzate comunque ho guardato tutto l'interrogatorio di Mark avvenuto il giorno successivo alla scoperta quindi il 28 dicembre un interrogatorio ragazzi che trovate facilmente su youtube che è davvero sconcertante all'interrogatorio si può notare come l'uomo per tutto il tempo sia estremamente calmo e dal suo tono di voce si capisce come sia totalmente sconnesso dalla realtà cercherò di riassumerlo in breve perché è veramente lungo e tratterò i punti più importanti per capire meglio le dinamiche dell'omicidio ovviamente secondo la sua versione Mark afferma fin da subito che lui e Kevin si iscrivevano su Grindr già da parecchi mesi e analizzando i messaggi scambiati tra di loro questo risulta essere vero i due fantasticavano su tecniche di BDSM e Kevin ha sempre espresso la sua voglia di consumare un rapporto sessuale spinto insieme a Mark fino a qui ovviamente niente di strano o di illegale i due quindi si sono dati appuntamento quel 24 dicembre l'uomo afferma che una volta insieme i due hanno stretto una sorta di accordo un patto Kevin avrebbe rivelato a Mark la sua profonda depressione e il suo desiderio di scomparire con scomparire fa intendere che il ragazzo desiderasse morire e che il suo corpo non venisse mai trovato per tutto il tempo però l'uomo mentre racconta dice frasi sconnesse tra di loro e fa anche riferimento ad alcuni avvenimenti del suo passato per esempio se ricordate quando gli agenti si sono presentati alla sua porta l'uomo ha affermato di non chiamarsi veramente Mark Latunski e di aver cambiato nome per proteggersi questa cosa la ripete più e più volte anche all'interrogatorio infatti dice che quello non è il suo nome di battesimo ma afferma che sia un'identità rubata e che il cambiamento di nome sia avvenuto negli anni 70 dopo la morte del vero Mark Latunski anche se afferma di non avere idea di cosa gli sia successo a quello vero che per realtà è lui quello vero ma vabbè comunque sia Mark afferma che lui e Kevin si sono visti in un parcheggio vicino a Miller Road che se ricordate è il punto in cui è stata ritrovata l'auto di Kevin il ragazzo avrebbe detto a Mark di aver lasciato tutti i suoi effetti personali compresi il suo telefono e i suoi vestiti nell'auto e che si sarebbero diretti a casa dell'uomo con una sola macchina quindi con quella di Mark una volta a casa i due avrebbero fatto qualche pratica di BDSM e poi si sarebbero diretti nel semi interrato per concludere l'accordo che avevano stretto Mark ha promesso a Kevin che lo avrebbe trasformato in qualcosa che avrebbe generato della vita riferendosi alle sue affermazioni di come volesse utilizzare il suo sangue e le sue ossa come fertilizzante per le piante Mark sarebbe quindi salito al piano di sopra per recuperare un grosso coltello da caccia che si sarebbe poi rivelato essere l'arma del delitto l'uomo avrebbe poi pugnato Kevin alla schiena sul midollo spinale ma quelle ferite non si sarebbero rivelate subito fatali così Mark ha deciso di tagliargli la gola e di appendere la testa in giù in modo che il sangue potesse defluire più velocemente dopo che Kevin aveva ufficialmente verso la vita Mark gli avrebbe riciso i testicoli sarebbe salito al piano di sopra e gli avrebbe fritti in padella per poi mangiarli e questo anche se il loro accordo fosse stato vero non faceva parte dell'accordo cioè vabbè ha anche mandato un messaggio con una sua foto mentre li cucinava a James Carlson che era stato il primo uomo a scappare da casa sua e chiamare il 911 nel messaggio inoltre Mark ha definito Kevin come il suo eroe e i pubblici ministeri hanno affermato che eroe è un termine che di solito viene assegnato alla vittima di un cannibale Mark sarebbe poi andato a dormire e nei giorni seguenti avrebbe pianificato come utilizzare il suo corpo per dargli una seconda vita alla fine dell'interrogatorio sono arrivato alla conclusione che Mark fosse totalmente disconnesso dalla realtà e ho percepito come lui in realtà per tutto il tempo provasse a far passare questo omicidio barra suicidio assistito a detta sua come moralmente accettabile in tribunale infatti la difesa farà tantissimo leva sull'aspetto di infermità mentale definirà Mark come incapace di intendere di volere al momento dei fatti ai sensi del codice penale degli stati uniti una persona può essere considerata legalmente pazza un termine che non vorremmo usare ma è letteralmente tradotto dall'inglese insane e può essere considerata in questo modo se al momento del reato soffre di un disturbo mentale in tali casi quando il soggetto viene accusato il verdetto potrebbe potenzialmente risultare come non colpevole perché non in grado di intendere di volere l'infermità mentale verrà supportata da una notevole quantità di prove e testimonianze tra cui le sue cartelle cliniche documenti del tribunale e varie testimonianze all'inizio l'appello viene accettato tuttavia durante il corso del processo il giudice deciderà di annullare l'appello per infermità mentale e sottoporre Mark ad un processo di riabilitazione di 15 mesi per ripristinare la sua stabilità mentale e prepararlo a sostenere un nuovo processo nel settembre del 2022 quindi più di due anni dopo l'omicidio di Kevin Mark Latunski si è dichiarato colpevole delle accuse di omicidio e mutilazione nel caso di Kevin Bacon e a ottobre è stato condannato all'ergastolo senza possibilità di richiedere la libertà condizionale al funerale di Kevin si riuniranno centinaia di persone tra amici e familiari e ognuno spenderà delle bellissime parole nei suoi confronti sua sorella Jennifer lo definisce come il suo angelo custode e afferma che Kevin non era solo il suo fratello ma anche il suo migliore amico a seguito della sua morte i genitori purtroppo divorzieranno non riuscendo a superare il fortissimo dolore e mi rattrista molto perché questo non è il primo caso in cui i genitori di una vittima dopo la perdita del figlio decidono di separarsi per i genitori perdere un figlio è qualcosa di naturale e nessuno è realmente mai pronto ad affrontare una cosa del genere la perdita del figlio potrebbe innescare dei problemi all'interno della coppia stessa e la tragedia del lutto innesca giustamente un dolore immenso che non è possibile descrivere in diversi studi si è constatato che potrebbero appunto nascere delle dinamiche che andrebbero nel tempo a danneggiare la coppia stessa infatti il loro equilibrio potrebbe con il tempo sgretolarsi fino al punto in cui entrambi si allontanano e spesso pure in maniera drastica e definitiva purtroppo cambiando un attimo discorso non sapremo mai come sono andate veramente le cose Kevin ha davvero fatto un patto con Mark voleva davvero farla finita in questo modo anche se fosse le accuse verso l'assassino non sarebbero diverse e la sua condanna tantomeno però mi dispiace non sapere come siano andate le cose io penso che Mark abbia potuto inventarsi questa storia del patto con Kevin per una riduzione della pena ma c'è anche la possibilità che sia avvenuto davvero però Kevin aveva dei sogni voleva perseguirli quindi non ha molto senso secondo voi cos'è successo davvero? anche questa è una tragedia che a mio parere si poteva evitare e anche in questo caso notiamo come molti segnali e campanelli d'allarme non siano stati ascoltati quindi non fate come gli agenti di questo caso stiate sempre gentili con il prossimo perché non possiamo mai sapere cosa sta attraversando ma spesso la nostra sensibilità e la nostra empatia possono davvero aiutare a far star meglio qualcuno e anche ad aiutarlo concretamente e concludo dicendovi di stare sempre attenti in questo caso in particolare faccio riferimento alle famose app di incontri che tutti conosciamo tutti abbiamo usato eccetera se dovete andare ad un appuntamento al buio o se dovete incontrare qualcuno che non conoscete condividete sempre la vostra posizione con gli amici e tenete sempre il telefono acceso e a portata di mano al giorno d'oggi la tecnologia ci permette di condividere la nostra posizione anche se il telefono è spento e questo potrebbe salvarci la vita in alcune situazioni di pericolo quindi per favore siate prudenti divertitevi fate del bene ma state attenti sempre detto questo se in qualche modo vi è piaciuto passare del tempo con me vi invito a mettere un mi piace a questo video o un non mi piace se invece non vi è piaciuto che vedevo di in ogni caso ai pochissimi che rimangono fino a qui anticipo che presto parleremo di una famiglia in Inghilterra che ha tenuto un segreto raccapricciante tra le mura di casa una storia ragazzi davvero particolare che mi ha fatto pensare fosse inventata come se fosse un manga di giungito per darvi un'idea però no era tutto vero quindi ecco spero che rimarrete nei paraggi per cui se vi ho incuriositi non dimenticate di iscrivervi al canale adesso parlo con te si proprio con te se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare qui trovi il video che youtube pensa ti piacerà e ricorda che youtube non si sbaglia mai e qui invece trovi la playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo vi ricordo infine di seguirmi anche su instagram se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio per essere stati con me e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file ciao